di sei, già dichiarato tale in sede del referente. La Presidenza si riserva comunque di pronunciare ulteriori dichiarazioni di inammissibilità nel corso dell'esame del provvedimento. Ha chiesto di intervenire la Ministra per le riforme costituzionali e rapporti con il Parlamento deputata Maria Elena Boschi. Prego, deputata, ne ha facoltà. Presidente, onorevoli deputati, a nome del Governo autorizzata dal Consiglio dei Ministri pongo la questione di fiducia sull'approvazione senza emendamenti. Deputati, lasciate terminare la Ministra. Deputati, per favore, per favore, deputati, lasciate concludere la Ministra. Deputati, per favore, deputati, per favore, bianconi, deputato bianconi, la richiamo all'ordine. Allora, deputati, adesso se... Deputato Scotto, lei chiede di intervenire? Allora, se ci sono interventi, io darò la parola a un deputato per gruppo, poi ci sarà alle ore 16 la conferenza dei presidenti di gruppo. Prego, presidente Scotto, prego. Grazie, presidente. Signora Ministra, questo è l'intervento che non avrei mai voluto pronunciare. Per favore, colleghi, è possibile mantenere tutti la calma e consentire a chi chiede la parola di parlare, per favore. Per favore, colleghi, per favore. Poi darò la parola a uno per gruppo. Adesso lasciamo il deputato Scotto parlare, prego. Capisco che molti colleghi ormai si sono abituati...